Il 13 di aprile ho portato la situazione emergenziale del San Massimo di Penne in consiglio regionale. L'assessore Verì, per conto dell'Aggiunta Marsiglio, mi assicurava che il reparto di medicina sarebbe stato ampliato fino a portarli a 10 medici, un nuovo concorso per penne. Ed effettivamente il concorso per il San Massimo di Penne per medicina c'è stato, è stato svolto a luglio, ma dai medici selezionati nessuno è arrivato qui. La situazione è addirittura peggiorata, prima ne erano 5, adesso sono 3 più il direttore facente funzione, che svolge anche lui le notti, tutti svolgono dei turni massacranti, turni consecutivi tra di loro, senza il rispetto del riposo giornaliero, con stress per i medici che con grande dedizione svolgono il proprio lavoro per la sanità dell'area vessina, ma anche con pericoli per i pazienti che si sottopongono alle cure perché trovano naturalmente dei medici oberati di tantissimo lavoro. Questa è l'attenzione per il San Massimo di Penne, questa è l'attenzione per la sanità di quest'area.